E' stato il primo rinforzo della scuola basketarezzo per la prossima stagione, arriva dalla Lituania, si chiama Laurinas Kirlis, classe 93, guardia di 192 cm, molto dinamica, dotata di un buonissimo tiro da tre punti a cui accompagna anche un'ottima visione di gioco. Il nuovo arrivo in casa Kasbah proviene dalle Zerunas Moletai, formazione di A2 Lituana, dove ha militato nelle ultime due stagioni chiudendo le annate sempre con la doppia cifra di punti realizzati e ora ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi aretini. E' stato il 24 anni, guardia di Lufthania. E' stato sperato di attivare la nostra squadra, Spac Rezzo. E' stato molto voglio incontrare i miei nuovi temati e voglio visitare i vostri bellissimi cittadini in Italia. E' stato voglio ringraziare il coach Giuseppe e il presidente Mauro Castelli e il whole management per mi ha dato questa opportunità. Io credo che abbiamo avuto molti bellissimi momenti insieme e ho promesso di fare il mio miglioramento per noi per venire il campionese. Sì, ci vediamo!